Buonasera, benvenuti a questo secondo appuntamento dedicato alla modellazione 3D. Oggi parleremo, come la volta scorsa, sempre del programma Tinkercad, ma ci concentreremo sul modellare forme complesse. Come vedete ho scelto un'immagine, una foto del Pantheon che cercheremo di ricostruire naturalmente, non fin nei più piccoli dettagli, più che altro non per l'impossibilità di farlo dal programma, ma per una questione di tempo. Diciamo che riproporre dettagliatamente tutto il monumento sarebbe un lavoro che renderebbe qualche ora. Quindi io vi farò vedere invece abbastanza velocemente tutta una serie di trucchi, di accorgimenti, che vi faranno comodo nel momento in cui dovrete rimodellare forme complesse, come in questo caso. Qui, come vedete, la struttura è sostanzialmente formata da una serie di figure geometriche sovrapposte, quindi è abbastanza facilmente scomponibile e riconoscibile, ma in particolare ci sono delle decorazioni, delle parti architettoniche un pochino più difficili da ricreare, per esempio il colonnato, che non è del tutto regolare, oppure i capitelli, cosa che può essere, anzi, è praticamente impossibile da fare a mano. Non solo, la sovrapposizione corretta di più forme, quindi tutta una serie di piccole complicazioni che il programma però molto facilmente ci permette di superare. Bene, posso chiudere la webcam e vediamo come procedere. Vi faccio rivedere un attimo a schermo intero l'immagine, quindi per spiegarvi meglio quello di cui vi parlavo poco fa, ma ovviamente c'ero io in sovrapposizione. Vi dicevo chiaramente, la struttura è abbastanza semplice, abbiamo delle figure geometrie, dei cilindri, dei cubi e così via, che si sovrappongono e quindi ricrearle è relativamente semplice. In realtà ci sono già di partenza delle scorciature che si possono fare, per esempio, la pianta, quindi la pianta completa dell'edificio, ricrearla da zero può essere un po' complesso, anche come vi dicevo per il colonnato frontale che ha un numero di colonne in realtà diverso fila per fila, e anche creare l'immagine di insieme che può non essere facilissimo. Allora, prima cosa, cambiamo immagine, vi faccio vedere. Cambiamo immagine e prendiamo la pianta del Pantheon, quindi come vedete io ho leggermente editato un'immagine che ho trovato su internet per levare le cose che non mi interessavano, ma soprattutto per cambiare di colore. L'immagine era in un colore non troppo marcato, io invece l'ho rimesso in bianco e nero. L'ho rimesso in bianco e nero perché? Perché questa sarà la base del mio disegno. Non so se sapete, ne abbiamo parlato nei webinar l'anno scorso, per chi ci ha seguito, per chi non ci ha seguito ve lo ripeto. Una cosa molto utile all'interno del programma Tinkercad è quella di poter importare dei file vettoriali, quindi dei file svg in particolare. Come si fa a creare un file svg? Nessun problema, esistono tantissimi convertitori online gratuiti che convertono l'svg direttamente a partire da un jpeg, come in questo caso. Qual è la condizione perché questa conversione sia buona? Che l'immagine sia netta, quindi che ci sia una netta distinzione tra la parte che ci interessa, in questo caso la parte nera, e lo sfondo. Per cui evitare colori magari troppo tenui, è bene lavorare in bianco e nero. In questo modo, quando si va a convertire il file, quello che ottengo è esattamente quello che voglio. Come in questo caso, come vedete, non sarebbe stato neanche troppo difficile probabilmente andare a ricostruire pezzo per pezzo la pianta. Sarebbe solamente stato più lungo, quindi se posso evitare delle complicazioni inutili, perché non farlo? Per cui, partendo da questo file qui, che è un semplicissimo jpeg, Attraverso un convertitore online, se su Google cercate from jpeg to svg, ne trovate tantissimi, basta importare il file jpeg e in automatico vi fa scaricare l'svg. Quindi andiamo a vedere come utilizzarlo. Torniamo in Tinkercad, sul nostro piano di lavoro, che in questo momento è vuoto, e prima cosa da fare, quindi importiamo l'svg. Come vedete, in alto a destra ho il comando Importa. Se ci passate, sopra il mouse vi dice Importa file 3D, ma una volta aperto, vedete che potete importare anche file bidimensionali, quindi svg, eccolo qua. Bene, come faccio? Scelgo un file. Eccolo qua il mio svg, apri. E come vedete qui vi da un'anteprima. Ora c'è un limite dovuto al software che non vi fa importare immagini o comunque file di dimensioni maggiori a 1000 mm3. Nessun problema, basta impostare la lunghezza al valore limite, lo potete fare anche più piccolo, 900, va bene, uguale. Quindi lo importate a una scala che per Tinkercad va bene e gli dite semplicemente Importa. Cosa succede? Mi importerà il mio disegno leggermente rialzato sull'asse Z. Eccolo qua, ora è bello grande. Eccolo qua. Questa è esattamente la resa tridimensionale, vedete, è stato scalato su Z, della mia immagine bidimensionale. Ok? Da questo siamo passati a questo. Esattamente la stessa cosa, in realtà, con due click. Adesso ho un punto di partenza per iniziare a costruire la mia forma, quindi il mio Pantheon. Bene, prima di tutto lo faccio un pochino più piccolo. Ricordatevi, per scalare gli oggetti in maniera uniforme dovete tenere cliccato il tasto Shift della tastiera e andare ad agire su una delle maniglie bianche, ok? Quelle che modificano contemporaneamente le due dimensioni per volta, ok? In questo modo, vedete, vado a modificarlo in maniera uniforme. Facciamolo circa 30 cm. Lo riportiamo un po' più nel mezzo, in questo modo lavoriamo a una scala un po' più bassa. Bene, prima cosa da fare. Possiamo confrontarci con l'immagine, ok? Vedete che il Pantheon ha diverse scale di altezza, cioè il colonnato si ferma a un certo punto, mentre la parte posteriore, quindi poi la parte interna, mantiene la sua geometria per tutta l'altezza, quasi fino qui sopra poi ci sarà la cupola. Per cui, prima cosa che mi conviene fare è sdoppiare questa immagine di base, perché mi farà comodo. Quindi, se vi ricordate, ho il tasto Duplica. Eccolo qua. Quindi, duplico il mio tasto, una la tengo al centro e una la sposto leggermente. Benissimo. A questo punto cosa fare? Semplicemente aumentare l'altezza dell'asse Z. Le proporzioni, diciamo che in questo momento le prendiamo un pochino ad occhio, sempre per il discorso della velocità. Poi, se uno vuole, può andare a prendersene in maniera un pochino più precisa, un pochino più corretta, e riportarle uguali. Adesso, in questo momento, mi interessa un pochino meno. Ok? Allora, quindi alzo per un tot. L'ho portato, mi pare, intorno ai 40 mm. Ricordiamoci sempre che stiamo lavorando in millimetri. A questo punto, mi interessa andare a rialzare un po' di più la parte posteriore, quindi escludere il colonnato, che mi va bene alto fino a questo punto. Come posso fare? Ho creato apposta la mia copia, ok? Quindi, prima di tutto, andiamo a allinearli. Allinearli solo centralmente, ok? Dopo vi farò vedere perché. Perché il colonnato a me non interessa più. Quindi, importo un cubo vuoto e semplicemente lo vado a rimuovere. Controlliamo sempre bene. Vado a rimuovere, ecco, fino più o meno, ecco, vedete, ho mangiato leggermente un pezzettino, ma era inevitabile perché altrimenti mi rimaneva una parte di colonne. Quindi, unisco, aggruppo, ok? Eccolo qui. E ho ottenuto solamente la parte che mi interessa. Quindi, questa parte che mi interessa cosa faccio? La vado ad alzare molto di più. In modo che, utilizzando la stessa immagine, sono riuscito a diversificare le altezze. Vado nuovamente ad allineare. Quindi, ho già allineato precedentemente dal punto di vista... Vedete, se le allineassi ora, che ho rimosso il colonnato, le metterei, in realtà, le sovrapporrei male, ok? Mentre io le ho allineate precedentemente in modo che le immagini erano identiche. Quindi, quando vado a fare la sovrapposizione sull'asse X, eccolo qua, non ho nessuno scarto. Ok? In questo momento, le mie figure sono allineate perfettamente. Ok, vado giusto per curiosità, per vedere, controllare un po' le proporzioni, direi che più o meno ci possiamo stare. Quindi, una volta fatto questo, raggruppo. Eccolo qua. E vedete come, in realtà, con due passaggi semplicissimi, senza bisogno di importare niente, se non il JPEG trasformato, io sono andato a creare buona parte della mia struttura. A questo punto devo solamente aggiungere le forme che mancano. E iniziamo da quelle un po' più difficili, quelle difficili da creare a mano, i capitelli delle colonne. Anche in questo caso prendo in prestito qualcosa esterno al programma. Io ho scaricato un file già tridimensionale di una colonna con il capitello. Da dove l'ho scaricato? L'ho scaricato da Tingiverse. Tingiverse è uno dei più grandi raccoglitori di oggetti 3D che potete trovare in rete e da cui potete attingere liberamente per, quindi, scaricare o oggetti già fatti, oggetti completi, oppure, come in questo caso, andare a cercare qualcosa che sia utile all'interno del vostro progetto. Quindi, come faccio? Una cosa molto simile a quella che ho fatto finora. Ritorno sul tasto Importa, scelgo un file, e questa volta, invece di importarmi un file bidimensionale, vado a importare direttamente un file tridimensionale. Qual è la differenza? Importa. Non è esattamente ciò che mi serve. Cioè, è vero, c'è il capitello, però, attaccato al capitello, c'è anche la colonna. Quindi, dovrò fare una piccola lavorazione. E, naturalmente, quando lo importo, non so bene in che scala è. Però, come avete visto, fin qui, andare a ridurre la scala non è un grosso problema, anzi, è una cosa che si fa molto, molto velocemente. Ecco, ha importato la mia colonna, qua dietro. Come vedete, come vi dicevo, è un po' fuori scala, non solo, è anche un po' ruotata male per la mia colonna. Quindi, prima di tutto, a dimensione grande, direi che la possiamo ruotare più o meno di 45 gradi. Quindi, come faccio? La cosa migliore è vederla dall'alto. Quindi, sul cubo, qui a sinistra, sul cubo di navigazione, mi vado a mettere perfettamente sulla mia colonna. Quindi, ora che è selezionata, se cliccate su Adatta la vista alle forme selezionate, eccolo qua. Vedete che passiamo, passiamo esattamente su quello. Non solo, l'avete visto, passo dalla visione prospettica tridimensionale alla visione ortogonale. Ok? In questo modo io sono sicurissimo di essere esattamente sopra il mio oggetto. Quindi, per ruotarlo, posso farlo attraverso la maniglia della rotazione. Ok? Lo posso ruotare. Forse non è un angolo così preciso, quindi mi allungo e lo vado a fare, anche in questo caso, un pochino a occhio. Diciamo che qui la precisione che voglio non è poi... non mi cambia molto un grado più, un grado in meno. Ok? Quindi 29-30 gradi più o meno di rotazione mi vanno più che bene. Eccolo qua. Sono andato ad aggiustare la mia colonna. Come vedete, in questo momento io sono in una vista bidimensionale. Ok? Torno alla vista prospettica. Ho addrizzato la mia colonna. Adesso la vado... prima di tutto vado a togliere la parte che non mi interessa. Quindi questa parte di colonna io già ce l'ho e quindi sarebbe inutile andare a riposizionarla. Come faccio? Semplicemente prendo un cilindro, lo allargo abbastanza, lo alzo. Si vede abbastanza bene il punto dove comincia. Io vado a... eccolo qua, l'ombra la faccio partire dalla parte che non mi interessa. Alzo il mio cilindro e a questo punto, raggruppandolo, ottengo solamente il capitello. Vediamogli un secondo. Eccolo qua. Ho ottenuto il mio capitello. Il mio capitello, naturalmente, adesso va girato a 180 gradi, ma non solo. Va anche ridotto. Per ridurlo, molto semplice. Lo scalo, sempre in maniera uniforme, tenendo premuto su shift. Bene. Adesso, per vedere se ho scalato nella maniera migliore, l'unica cosa da fare è andare a posizionarlo sulla colonna. Se è troppo grande, vuol dire che lo dovrò scalare ancora un po', o più facilmente, magari, ingrandiamo leggermente il mio... Scusate, penso di averlo fatto... dove è sbagliato. Ecco. Vado a ingrandire leggermente il mio Pantheon, che tanto l'avevamo ridotto in effetti anche troppo. Benissimo. Portiamo più o meno... Ok. A queste dimensioni qua. Allora. Adesso, zoom un po', e vado a posizionare, in questo caso, in maniera abbastanza... Cerco di essere il più preciso possibile. Chiaramente, in questo caso, non posso usare l'allineamento di Tinkercad, perché non me lo farebbe sulla singola colonna. Bene, quindi devo andare un pochino a occhio. Io, però, posso andare a vedere, utilizzando lo zoom, e a spostarmi. Come vedete, in questo momento io mi sto spostando con le frecce della tastiera. Il mio mouse lo metto un attimo da una parte. Ok. Se utilizzate le frecce della tastiera, potete muovervi sul piano. Gli scalini, quindi i passaggi che fate, potete sceglierli. Quindi, in questo momento, se andate a vedere qui in basso, c'è la scritta Griglia di Snap, che è a un millimetro. Vuol dire che, tutte le volte che io tocco il tasto freccia, il mio oggetto si sposta di un millimetro. Se cliccate sul menu a tendina, vedete che potete essere molto più preciso, quindi fare un decimo di millimetro, o per spostamenti grandi, molto più veloci, quindi 5 mm. In questo momento io voglio essere preciso e quindi porto la mia Griglia di Snap, i miei spostamenti, al minimo possibile. Alzo ancora un po', perché mi sono accorto di essere un pochino basso. Dopodiché cerco, piano piano, vedete che si sta muovendo molto più lentamente, una centratura migliore possibile. Ricordatevi di guardarla sempre da più di una vista. Ora il mio capitello è probabilmente leggermente più grande, posso andare forse a ridurlo un pochino, però vi ripeto, non è la perfezione che sto cercando in questo momento, quindi a un certo punto me lo faccio andare bene. Voglio sistemare in realtà abbastanza bene il primo, perché da questo poi vi farò vedere che dipendono tutti gli altri. Ok, sono relativamente, anzi sono soddisfatto di quello che ho fatto. Adesso mi riposiziono frontalmente e utilizzo, anzi mi metto anche, eccolo qua, in maniera più ortogonale possibile, e utilizzo un comando che abbiamo già visto, che è il comando duplica e ripeti, per fare una cosa molto semplice, guardate, io clicco una prima volta e vado a spostare a mano, sempre attraverso le frecce, ok, il mio capitello, fino a posizionarlo esattamente sulla seconda colonna. Ok, ci vuole, un attimo ho ottenuto la griglia di snap sempre abbastanza precisa. Ecco, cerchiamo di posizionarlo, avviciniamoci un attimo, direi che l'abbiamo posizionato abbastanza bene. A questo punto, siccome le colonne sono abbastanza regolari, se, senza cambiare nulla, senza, avete visto, togliere la selezione dal mio capitello, clicco nuovamente, duplica e ripeti, il prossimo vi va direttamente sulla nostra nuova colonna, e così via. Ok, come vedete, questo mi accorcia notevolmente il lavoro. Con quattro clic ho già fatto tutta la prima fila, ora, se mi avvicino, probabilmente ci sarà un minimo di scarto, soprattutto sulle ultime, magari da andare a correggere leggermente, ma è un errore veramente di poco conto. Ecco qua, la prima fila è fatta. A questo punto, capite che fare le file posteriori è molto più semplice, perché io seleziono solamente i capitelli che mi interessano, e faccio esattamente la stessa cosa. Quindi, il primo sarà quello un po' più lungo, duplico e sposto. Per velocizzare un attimo, posso rimettere la griglia di snap a un millimetro, in modo che, ecco, lo spostamento sia un pochino più veloce. Ok, quando sono, anche in questo caso, torniamo leggermente indietro, ok. Siamo a posto. Clicchiamo nuovamente, duplica e ripeti, e andiamo a completare il colonnato. Ecco a voi. Quindi, vedete, invece che selezionare ogni singola colonna, in questo modo, ho velocizzato tutta l'operazione. Ma non solo. Così facendo, io sono sicuro che tutti i miei capitelli sono esattamente alla stessa altezza, perché l'ho copiato tutti dal primo. Se mi fossi messo ad alzarli, o a variare, volta a volta, avrei sicuramente fatto degli errori, e quindi il mio piano di base non sarebbe stato più lo stesso. E, per il motivo che vi faccio vedere ora, questo sarebbe stato un problema. Allora, come avete visto, in tempo relativamente breve, io ho creato la mia struttura di base, il mio colonnato, e ho aggiunto tutti i capitelli. A questo punto, cosa devo fare? Se riprendo l'immagine del Pantheon, eccoci, andiamo a costruire la parte frontale, quindi andiamo a fare questa chiusura, che farò semplicemente utilizzando un cubo, e poi sopra andrò a mettere il tetto. Bene. Quindi, torniamo su Tinkercad. Per far questo, naturalmente, ci vuole che tutte le mie colonne siano allo stesso livello. e per velocizzare la costruzione esattamente su questo piano, io posso utilizzare questo pulsante, piano di lavoro, in pratica sposta il punto zero del mio piano di lavoro. Se ora tutti gli oggetti che io importo, facciamo un esempio, con il cubo, vedete, sono importati alla stessa base, quindi allo stesso punto zero della mia costruzione, io voglio che in questo momento vengano importati invece all'altezza dei capitelli. Quindi andiamo a eliminare questo cubo. E lo posso fare utilizzando questo strumento qui, strumento piano di lavoro. Se io clicco e trascino, vedete, avvicino un po', ho questo piano di lavoro bianco che si sposta via via, che io sposto il mouse, e che può essere posizionato in qualsiasi punto del mio disegno, del mio modello. Quindi io prendo una colonna qualsiasi e gli dico che tutti gli oggetti che verranno importati da qui in avanti devono essere importati a questa altezza. Vedete? Ho rilasciato e è stato creato un nuovo piano di lavoro a questa altezza. Quindi cosa succede? Se io importo il cubo che vi ho fatto vedere prima, eccolo qua, lo importo esattamente sopra il mio colonnato. E questo mi rende il lavoro molto più semplice. perché adesso basta posizionarlo, basta dimensionarlo, delle dimensioni che mi interessano, e ho già fatto, vado a fondere leggermente, e ho praticamente già fatto la copertura. Lo alziamo un pochino, magari poi dopo qui dentro proveremo a mettere anche la scritta. ricordatevi sempre di raggruppare. Ok? Perché poi per qualche errore, anche minimo, si perde buona parte del lavoro. Quando siete sicuri di quello che abbiamo fatto, si può raggruppare. Bene, una volta raggruppato, a questo punto si può semplicemente andare avanti con lo stesso sistema. quindi creo un nuovo piano di lavoro, leggermente più alto, e sopra a questo vado a importare la parte che andrà a costituire il mio tetto. Eccolo qua. Naturalmente va ruotato e dimensionato correttamente. ok, allora, adesso lo portiamo fino alla parte posteriore, non è correttissimo, in realtà qui ci sarebbe un'altra struttura, ma, diciamo, per il momento ci possiamo accontentare. Lo alziamo leggermente. Eccolo qua. E anche la parte del tetto l'abbiamo creata. Come vedete, piano piano sta prendendo sta prendendo forma. Ci pensa un attimo. Una volta raggruppato, è comunque raggruppato, ora tra poco cambierà colore. quello che posso andare a fare è la copertura della parte posteriore della cupola. Quindi mi importo un altro piano di lavoro. E qui, in realtà, una cosa che può tornare utile è capire quanto è grande la mia cupola, in modo da poterci importare una semisfera corretta. quindi prendo un nuovo strumento che è lo strumento righello e lo importo, vedete, qui sulla maniglia bianca in modo che mi dia le dimensioni precise. A me, in questo caso, non interessa il lato lungo, interessa il lato corto, questo da 89.16 perché è il diametro della semisfera che devo andare a importare. quindi vado a cercare la mia semisfera, la importo come prima su un nuovo piano, eccolo qua, e so che il lato deve essere 89.16. Stesso discorso di qua, 89.16. a questo punto posso provare ad allineare tutto. Quindi utilizzo il tasto allineare e posso allineare nella parte a sinistra e centrali. eccolo qua. Come vedete ho preso le dimensioni esatte della mia cupola e sono andata ad allinearla. Una volta che il righello non mi serve più per liberare un po' lo spazio di lavoro semplicemente posso andare a chiuderlo con la X. stesso discorso anche per l'allineamento. Ora la mia cupola naturalmente così è un po' bassa quindi posso andare a aumentare la bombatura. Ok, già da un po' l'idea di quello che dobbiamo andare a fare. Ancora una volta seleziono tutto anzi prima di selezionare tutto conviene andare a creare l'apertura nella parte alta della cupola quindi importo un cilindro lo vado a dimensionare un pochino più piccolo quindi diciamo che posso scegliere di farlo 10-10 10-10 ok a questo punto lo devo andare ad allineare con la cupola ora siccome la cupola mi interessa che rimanga solidale con la base faccio questa operazione in due parti quindi prima di tutto andrò a allineare sull'asse Y in questo caso la parte centrale della cupola con il foro che ci voglio fare seconda parte seconda parte dell'operazione scelgo tutte le forme che ho sul piano di lavoro e vado nuovamente ad allineare in questo caso adesso la allineerò nel lato X in questo modo sposterò tutta la figura ma cupola e base rimarranno una sull'altra come vedete ho fatto un errore torniamo indietro un attimo non ho allungato a sufficienza il mio cilindro quindi il mio cilindro alla fine risulta rimanere all'interno della cupola niente di grave avete visto con la freccia sono tornato indietro e facciamo questa operazione in più quindi allunghiamo abbastanza il mio cilindro torniamo a riselezionare tutto e allineiamo eccolo qua scusatemi il il file comincia ad essere un po' pesante per il mio computer ok ce l'abbiamo fatta ecco a questo punto posso selezionare tutto e andare a raggruppare per far sì che tutte le forme vengano fuse insieme può darsi ci metta un pochino ecco l'ha fatto in realtà l'ha fatto abbastanza velocemente ancora non me lo fa vedere in anteprima ma se leggete qua sopra sta salvando quindi ora un pochino per volta il file verrà verrà aggiornato bene allora le forme in generale diciamo che sono fatte cosa ci manca da fare possiamo fare qualche piccola miglioria possiamo andare a chiudere questa parte della facciata e magari se riusciamo mettere il secondo frontone che c'è nel monumento originale dopodiché possiamo andare a scavare la parte anteriore del frontone e ricavare l'incavo per la scritta poi vediamo allora cominciamo a fare queste due cose allora prima di tutto per inserire una una parete un pochino più uniforme dove in realtà mi sono portato dietro semplicemente la parte bassa della pianta gioco sempre con i piani quindi importo un nuovo piano di lavoro a me interessa eccolo qui che sia questa volta perpendicolare praticamente a come sto lavorando e vado a importare un cubo eccolo l'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti in questo momento è che importato con un piano verticale ho in realtà variato un po' gli assi quindi quello che fino a oggi per me era fino a questo momento perché fino a oggi era la z in questo momento ce l'ho sull'asse x ok come vedete eccolo qua questo è l'equivalente della mia z quindi si tratta di lavorare un minimo vedete se io mi muovo ora mi sto muovendo con le frecce della tastiera vedete che mi muovo in realtà in y e in z e non più in x quindi niente di particolarmente complesso bisogna solo stare un pochino attenti quando si quando si lavora poi come avete visto per qualsiasi errore si può sempre tornare indietro quindi nulla assolutamente nulla di grave bene vado a dimensionare ok più o meno mi può far come se portarlo un pochino più avanti più che altro ecco allora prendiamo un'altra vista e caliamolo un po' in modo che sia non andiamo a prendere ecco in modo che sia abbastanza uniforme se ricordatevi sempre se voglio vedere la bidimensionalità sul mio oggetto eccolo qua quindi lo allarghiamo ancora un pochino ok perfetto andiamo a unire anche questa parte qua se a questo punto aspettiamo come sempre un attimo di ritardo a questo punto se vogliamo andare a costruire il secondo frontone lo possiamo fare utilizzando sostanzialmente il solito eccolo qua la solita forma geometrica che abbiamo utilizzato prima in questo caso andrà ruotata di 90 gradi o la andiamo a dimensionare abbastanza ok dopodiché la raddoppio perché nella parte bassa in realtà voglio andare a creare un vuoto quindi come avete visto la raddoppia con il solito tasto duplica e vado a fonderli come vi ho fatto vedere prima eccolo qua in modo che l'ombra in qualche modo mi faccia mi faccia da guida bene quindi in realtà io terrò solamente la parte più la parte più esterna ok quindi faccio in modo che sia passante il vuoto ok e unisco eccolo qua ora vediamo se l'ho fatto troppo grande poi magari lo lo sistemiamo e andiamo sì decisamente l'ho fatto troppo grande quindi lo andiamo a stringere un pochino uno e due eccolo qua ok eccolo qua lo possiamo anche leggermente abbassare eccolo qui e come sempre unisco ecco ok allora andiamo avviciniamoci un po' andiamo a ricavare l'incavo nella parte anteriore per vi apro un attimino l'immagine faccio vedere quello che volevo fare ecco andiamo a ricreare quindi uno spazio per la scritta o comunque una parte della scritta che magari metteremo e questa parte qua che andrà che andrà anche questa scavata la tecnica sarà molto molto simile a quella usata finora quindi la prima cosa da fare è spostare il piano di lavoro sulla parte frontale eccolo qua e possiamo scegliere con cosa iniziare quindi se vogliamo possiamo iniziare con il tetto mi allontano un po' mi allontano un po' e lo ruoto naturalmente eccolo allora l'abbiamo ruotato come prima andiamo a prendere una dimensione più o meno a questo punto dopo dopo aver preso una dimensione più o meno adesso posso anche andare ad allinearlo con il resto perché l'altezza mi va bene quindi posso utilizzare il tasto allinea per essere un po' più preciso e lo allineerò centralmente eccolo qua lo creo come un vuoto eh no scusatemi naturalmente non tutto ma solamente la parte che voglio andare a sottrarre quindi esco dall'allinea creiamo il mio vuoto e andiamo a creare eccolo qua quello che come vi dicevo mi interessa quindi facciamoli tutti e due così poi utilizziamo una volta sola il comando il comando raggruppa importo anche un cubo lo alziamo probabilmente andrà leggermente abbassato eccolo qua andiamo stringere leggermente e anche in questo caso prendiamo prendiamo tutto per poter allineare quindi selezioniamo tutto tasto allinea e allineiamo tutto centralmente a posto a questo punto mi avvicino per sistemare un po' meglio il mio cubo che è un po' troppo basso ecco così mi piace di più lo rendo vuoto e come ho fatto prima lo fondo leggermente all'interno della mia figura quel tanto che basta e andiamo a vedere seleziono tutto e ancora una volta raggruppo ecco qua zoom un pochino perfetto a questo punto per creare la scritta vado a posizionarmi all'interno ok in modo da essere preciso e utilizzo il mio strumento testo da importare qua eccolo qua unico ne ho importati troppi scusate unico difetto il mio strumento testo in questo momento è un po' grande quindi andiamo a ridurlo vediamo se riusciamo a ridurlo abbastanza eccolo qua forse ancora un pochino ancora un pochino naturalmente qui la scritta verrà un po' piccola e probabilmente comunque vedendola a video non ci sono problemi cosa ci andiamo a scrivere ma potremo provare a scrivere m.agrippa diciamo almeno la prima parte quindi al posto eccoci qua al posto di text cancelliamo text e scriviamo m il punto verrà un pochino basso agrippa ok se volete si può anche continuare ma insomma tanto m.agrippa vediamo un po' m.agrippa l beh diciamo che per il momento ci va bene anche così lo centriamo un po' anche questo solita cosa seleziono uno e seleziono due naturalmente fino a che si tratta di centrare nella parte frontale è tutto semplice il problema è quando bisogna andare a selezionare eccolo il centro sugli altri sugli altri assi come ho fatto vedere prima la cosa più rapida più veloce da fare è quello di scegliere di farlo in due passaggi in modo di fare prima un allineamento e poi l'altro eccolo qui lo posso lo posso andare a questo punto a modificare lo spessore lo faccio un po' più alto perché naturalmente anche questo a sua volta è incavato seleziono tutto e raggruppo ok ecco qua come vedete è stata scavata la scritta e a questo punto direi che per quanto riguarda le tecniche che possiamo utilizzare per creare oggetti complessi vi ho fatto vedere più o meno tutto naturalmente qui continuando a lavorarci se potremmo andare avanti per un bel po' inserendo base andando a scavare le finestre lavorando sulla cupola che ha una parte a gradoni però qui si tratta semplicemente di andare a scegliere le forme migliori e andare a sovrapporli per esempio possiamo utilizzare un tubo per andare a ricreare l'effetto gradoni della cupola ve lo faccio vedere molto velocemente una cosa che forse non vi ho fatto vedere ma che a volte è utile se abbiamo il nostro piano di lavoro un po' troppo pieno una cosa comoda da fare ogni tanto è far sparire gli oggetti e come si fa si nascondono semplicemente con la lampadina quindi cliccando sulla lampadina come vedete l'oggetto è scomparso quindi mi riporto il mio piano di lavoro su quello di partenza eccolo qui e se voglio andare a crearmi la mia serie di scalini di gradini da inserire all'interno della cupola ora ve li faccio diciamo 50-50 naturalmente sono piccoli per la cupola che abbiamo fatto però per quello che voglio far vedere va più che bene e continuo con il solito gioco quindi importo un piano di lavoro più alto importo nuovamente un tubo se quello inferiore era 50-50 quindi andrò a farlo magari 45 45 benissimo e allineo eccolo qua il primo gradone poi magari si può giocare sullo spessore su tante altre cose così via nuovo piano di lavoro nuovo tubo già a misura praticamente già nella posizione corretta 40-40 seleziono tutto e vado ad allineare ok e così via quindi quando sono soddisfatto del lavoro raggruppo e questo naturalmente ora della forma delle dimensioni un po' più corrette rispetto a queste che vi ho disegnato io posso andare a fonderlo all'interno del modello che abbiamo visto prima naturalmente abbiamo preso un oggetto molto molto complicato da fare quindi la lavorazione potrebbe durare anche diverse ore una cosa questo dipende molto dal computer che utilizzate avete visto nell'ultima parte del webinar il mio computer ha cominciato a fare un po' di fatica e quindi si vedeva che le operazioni andavano a scatti naturalmente quando si parla di modellazione 3D quando si lavora con la modellazione 3D c'è bisogno di computer abbastanza reattivi che lavorino molto bene le immagini altrimenti questo è un è un difetto a cui si va incontro quindi quando poi i file diventano molto molto pesanti diventa difficile andare a lavorarci però questo purtroppo dipende da caso a caso è difficile fare un un discorso generale che vada bene per tutti perfetto allora io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento alla prossima e alla prossima volta tra due settimane se non ricordo male dove vedremo come iniziare un modello con Tinkercad e poi finirlo in un ambiente di modellazione molto più professionale che è quello di Fusion 360 quindi quindi tutte le possibilità che ci dà un software più performante grazie ancora arrivederci e buona serata grazie a tutti